13 agosto, Earth Overshoot Day, il giorno del sovrasfruttamento della terra. A oggi, si calcola, la popolazione mondiale ha già consumato tutte le risorse disponibili per il 2015. Il rapporto tra impronta ecologica e biocapacità è sempre più sproporzionato, con il risultato che l'Overshoot Day ricorre sempre prima. L'anno scorso si è celebrato il 19 agosto, mentre appena 15 anni fa era agli inizi di ottobre. E' il 1970, invece, l'ultimo anno in cui il consumo dell'uomo è stato pari alle risorse terrestri. I costi di questo sforamento ecologico stanno diventando sempre più evidenti. Sono in crescita costante gli indicatori relativi a deforestazione, esicità, scarsità di acqua dolce, erosione del suolo, perdita di biodiversità e, infine, aumento dell'anidride carbonica nell'atmosfera. A questo ritmo, dicono gli scienziati, nel 2030, per ricostituire le risorse consumate in un anno, sarebbero necessari due pianeti Terra.